La banda Termoli, quella dei giovanotti, quelli degli under, ferma la marcia del Chieti nella prima giornata del campionato nazionale di rettanti. L'esordio è più che mai positivo per il gruppo di mister Lillo Catalano. Di fronte c'è il pubblico, quello delle grandi occasioni. Arrivano in tanti da Chieti per il gemellaggio con i tifosi del Termoli. Dall'altra parte il pubblico giallorosso risponde alla grande, si stringe vicino ad una squadra imbottita di ragazzi di cui Ruggeri ne è praticamente il capitano e l'uomo guida. E' un Termoli bello ben messo in campo da mister Lillo Catalano che fa di necessità virtù, riesce a rispolverare il meglio dai giocatori veterani e riesce a tirar fuori il meglio anche dai più giovani. Termoli pronti via, 40 secondi, il Termoli trova il gol, cross perfetto, deviazione di mano di Maiorano, la testa vincente di Poziello, il direttore di gara però vede la mano di Maradona e c'è il giallo per Maiorano che si è aiutato con un braccio nel mettere in area il pallone. Ha visto tutto il direttore di gara lì a pochi passi e gli ha mostrato il giallo. Un buon Termoli che ha di fronte però anche esposito la prima conclusione del San Martinese al quinto. Il suo diagonale si spegne sul fondo, Termoli che suona le danze, gioca meglio del Chieti che comunque è sempre pericoloso. Minuto numero 25, Maiorano si presenta tu per tu con l'estremo difensore Schina che gli va a chiudere praticamente lo specchio della porta. Risponde il Chieti, ancora un giro di lancette, minuto numero 26, esposito ubriaca, la retroguardia del Termoli va alla conclusione, il suo piattone viene appoggiato all'indietro da Soria Anello per il portiere Natali. Dicevamo del Termoli, minuto numero 29, costruisce Poziello, palla in mezzo, Maiorano la sponda per il Siluro da parte di Franzese in corsa. C'è il portiere Schina che aguanta praticamente il pallone, minuto numero 29, il pallone in area di rigore, la girata precisa da parte di Ruggeri che si era sganciato dalle retrovie, la palla che viene deviata in calcio d'angolo. Con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa, tutti aspettano il Chieti, invece vedranno solo e soltanto il Termoli. Si incomincia al quarto con Simonetti che ci prova dalla media distanza, trova il Varco in due tempi, il portiere Schina fa suo la sfera, minuto numero 19, il Termoli inserisce Difortunato dal suo lancio da calcio d'angolo, il colpo di testa di Fulvio, fa gridare al gol ma la sfera si spegne sul fondo. Difortunato detta i tempi con il suo ingresso in campo, quel minuto numero 33 va a lottare come un guerriero su un pallone, favorisce la conclusione dal limite di Franzese con la sfera che termina alta sulla traversa. Il Chieti si vede solo nel finale, prova a reggere l'ulto di un Termoli che forse meritava qualcosa in più. Nel finale il cross perfetto dalla destra, il colpo di testa in corsa da parte di Ginon con la palla alta sulla traversa, finisce 0-0, va bene al Chieti, va forse meno al Termoli ma va bene anche per la formazione giallorossa che inizia con il piede giusto, confermandosi dopo la bella vittoria di Coppa Italia. Grazie.